Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione su Telecittà. Terza estate con il Covid. Agosto però per la prima volta senza restrizioni. La pandemia continua ad essere ben presente e in maniera meno grave. Gli esperti però temono il futuro per l'arrivo di Centaurus, l'ultima variante Omicron, apparsa anche in Italia. La sua manifestazione nel nostro paese per il momento si limita a un solo caso registrato dalle autorità sanitarie. Presentata all'ospedale C. Foncello di Treviso la dichiarazione di intenti che fissa le iniziative contenute nel protocollo di intesa sulle problematiche connesse agli incidenti stradali. Il protocollo nasce dalla volontà delle istituzioni locali di cooperare per attivare iniziative che puntino a un'effettiva e radicale modifica dei fattori a rischio per ridurre l'incidenza di questi eventi giocando un ruolo importante nella loro prevenzione e gestione. Tre secondi di distrazione possono cambiare la vita di tutti noi e come istituzione abbiamo il compito di aumentare la consapevolezza sottolineando anche quali possono essere le conseguenze di un gesto come quello di guardare il telefonino mentre si è alla guida. Tre secondi che possono cambiare la vita di ciascuno di noi ha riferito l'assessore. Questo è quello che può cadere nelle nostre strade e noi dobbiamo riaccendere i riflettori e creare i presupposti per fermare questa ecatombe. E a proposito di disgrazie e tragedia lungo la riviera del Brenta si pensa un malore o un incidente sfortunato. Vediamo il servizio. Era entrato in acqua per trovare un po' di refrigerio ma ha trovato la morte. Un uomo di 55 anni è caduto nel fiume tra Dolo e Mira in provincia di Venezia. Tutto fa presupporre un incidente. L'uomo sarebbe scivolato domenica. Immediate le attivazioni dei dispositivi di soccorso per cercarlo. Lunedì nel territorio in provincia di Venezia sono arrivati i vigili del fuoco di Bologna. Quelli veneti sono impegnati a Rovigo da giorni. Il corpo dell'uomo di 55 anni è stato recuperato verso le 19 di lunedì. Presenti i carabinieri. Una notizia che ha dal grottesco. A Cittadella sono state scambiate le bare di due defunti. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i familiari al momento di celebrare il funerale. La situazione comprensibilmente ha creato non poca tensione e ha aggiunto dolore al dolore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Resta incomprensibile un errore del genere. L'USS Eoganea, stante le volontà di fare piena carezza, rende noto che all'obitorio dell'ospedale di Cittadella si è verificato uno scambio di feretro tra due persone decedute a poca distanza l'una dall'altra. L'azienda socio-sanitaria, esprimendo grande e rammarico per l'accaduto e vicinanza ai familiari delle due persone, ha prontamente avviato un'indagine interna atta a capire cosa è successo e a risalire alle eventuali responsabilità. È stata naturalmente informata anche l'autorità giudiziaria. Cambiamo argomento, adesso torniamo a parlare di siccità a Padova. Nuova ordinanza in seguito alla siccità. Ieri è stata introdotta l'unità di crisi. Oggi la firma di una nuova ordinanza che prevede il divieto di avvicinamento ai canali. Non si potrà pescare né navigare. Le piogge di questi giorni hanno migliorato un po' la situazione, ma il problema rimane. La situazione potrebbe aggravarsi nuovamente. Al momento è rientrato l'allarme per quanto riguarda l'inceneritore, mentre è elevato il problema delle zanzare e della diffusione della West Nile. Sembra paradossale, ma per ridurre l'impatto con le alte bollette energetiche, baristi e ristoratori decidono di rinunciare alle ferie e di tenere alzate le saracinesche. Baristi e ristoratori rinunciano alle ferie per rientrare negli aumenti energetici che stanno di fatto mettendo in ginocchio tante attività. È surreale, ma molti imprenditori quest'anno accade a Padova, città, ma situazioni analoghe si stanno verificando anche altrove. Ridurranno al minimo la pausa estiva nel tentativo di recuperare fatturato e perdite dovute all'aumento dei costi. A raccontarlo è il senatore Antonio De Poli. Secondo alcune stime, spiega, in bolletta, solo il 40% dei costi è dovuto al consumo, mentre è ancora eccessivo il peso della tassazione. La nostra proposta, spiega ancora il senatore, è a zerare gli oneri di sistema in maniera strutturale e in parallelo estendere e rafforzare i crediti d'imposta a beneficio delle imprese già dal prossimo decreto aiuti. De Poli, commentando la notizia resa nota dall'APE, Associazione Pubblici Esercizi di Padova, secondo cui molti esercizi stanno rimanendo aperti per recuperare fatturato in vista di un autunno particolarmente incerto. L'ondata inflattiva è già oggi preoccupante. Le stime dell'Istat e di Eurostat parlano di un più 8-9%. È indispensabile che nel provvedimento che è allo studio da parte del Governo venga messo in campo tutte le misure necessarie a contrastare i rincari che già nel prossimo autunno rischiano di mettere in ginocchio cittadini, famiglie e imprese. Violenze nel carcere di Venezia. Due agenti della Polizia Penitenziaria sono stati aggrediti da un gruppo di detenuti. I due poliziotti sono rimasti feriti riportando alcune settimane di prognosi. Una vicenda drammatica che mette in risalto ancora una volta le precarie condizioni nelle quali si trovano a lavorare gli agenti in alcuni penitenziari. Il sindacato di riferimento ha chiesto un incontro con il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria. Al via, con almeno 7 giorni di anticipo rispetto allo scorso anno, la vendemmia 2022 nel Vicentino, con la siccità e il caldo di oltre 40 gradi che hanno tagliato la produzione del 10%, con i vigneti messi a dura prova anche da nottate con affe, temperature minime sempre molto alte, che non hanno permesso ai grappoli di prendere un po' di respiro climatico con il tradizionale sbalzo termico. È quanto emerge dall'analisi di Coldiretti in occasione dell'avvio della vendemmia con il distacco dei primi grappoli. La produzione vicentina quest'anno si stima in calo del 10%, ma molto dipenderà sia dall'evoluzione delle temperature che influiscono sulla maturazione, sia dall'assenza di nubi fragie e grandinate che hanno un impatto devastante sui vigneti e sulle quantità prodotte. Si attende comunque un'annata di buona, ottima qualità, anche se l'andamento della raccolta sarà influenzato molto dal resto del mese di agosto e da quello di settembre, per confermare le previsioni anche sul piano quantitativo. Parliamo adesso di turismo, cambiamo argomento, con le presenze triplicate e il ritorno degli stranieri in regione. Triplicano le presenze e tornano gli stranieri. È il turismo il settore più premiato in questa prima metà dell'anno, come indicano i dati del bollettino socio-economico del Veneto. I principali dati congiunturali, luglio 2022, pubblicato a cura dell'Ufficio Statistica della Regione del Veneto e realizzato a partire dai dati Istat. In Veneto il turismo è ripartito. Le presenze turistiche nel primo quadrimestre del 2022 sono più che triplicate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, anche se non si sono ancora raggiunti i livelli del 2019. Tra le destinazioni vola il Lago di Garda, che supera i livelli pre-pandemia. Recuperano montagne e terme, mentre le città d'arte sono le più penalizzate. Le presenze degli italiani risultano allineate a quelle di gennaio-aprile 2019, ma gli stranieri sono ancora un terzo in meno rispetto allo stesso periodo. Tra loro invece sono tornati i tedeschi. Guardando ai dati del 2021, lo scenario indica che la ripresa è stata per lo più merito del turismo domestico. Nel 2021 i Veneti hanno trascorso oltre 8 milioni di notti nella propria regione. Giovedì 4 agosto alle 20.45 all'auditorium comunale di Carminiano di Brenta, l'amministrazione locale ospita il primo di due incontri provinciali dedicati alla presentazione della nuova legge regionale sulla protezione civile del 1 giugno 2022. Disciplina delle attività di protezione civile. Sarà presente l'assessore regionale competente Gianpaolo Bottacin. L'invito è indirizzato ai presidenti e coordinatori di distretti di protezione civile Alta Padovana, Medio Brenta, Padova Sud Ovest, Campo San Pierese, Padova Nord-Est e Padova. L'invito è anche per i sindaci e assessori alla protezione civile, ai coordinatori di distretti e ai presidenti delle associazioni di protezione dei distretti citati. Il resto degli operatori e amministratori della provincia saranno ospitati a Monselice l'8 settembre. L'incontro è stato promosso dalla rappresentante provinciale del volontariato nell'ambito di protezione civile Massimo Maran, dalla vicepresidente vicario della provincia di Padova Vincenzo Gottardo e dalla consigliera provinciale delegata Daniela Bordin. Concludiamo come sempre dando un'occhiata al meteo. Si protende da sud ovest un promontorio anticiclonico con aria calda che sulla nostra regione porta un graduale ritorno a temperature elevate, con prevalenza del cielo sereno a fronte comunque di una crescente nuvolosità, specie di pomeriggio in montagna, ove più probabilmente a fine periodo torneranno temporanei fasi di instabilità e alcune piogge. Il tempo per oggi sarà variabile con nubi alternate e spazi di sereno. E tutto anche per oggi per quanto riguarda l'informazione, come di consueto vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Telecittà. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS